Allora a base del pensiero Snyder c'è questa filosofia molto semplice, andiamo a trovare un'altra persona che ci può parlare soprattutto di sinergie, si sinergia ad esempio con Anie, allora spieghiamo che cos'è Anie e spieghiamo il valore di questo tipo di sinergie che vengono strette anche attraverso aziende realtà importanti come Snyder. Sì, grazie. Anie è un'associazione che raccoglie tutte le aziende del settore elettrico ed elettronico, stiamo parlando di 1200 aziende, 65 miliardi di cifra d'affari, di cui quasi 50% all'export, ma soprattutto valore fondamentale, globalmente le aziende Anie investono qualcosa intorno al 4,5% all'anno in ricerca e sviluppo, elemento fondamentale che caratterizza evidentemente un settore che continua ad investire nello sviluppo delle soluzioni, nella tecnologia e nelle innovazioni. Lei parlava di importanza di rete soprattutto. Importanza di rete sì perché attraverso questa associazione globalmente si raccolgono le varie aziende, dalle PMI alle grandi aziende che collaborano insieme per quanto riguarda i migliori risultati che tendono evidentemente all'efficienza energetica. Inoltre si può insieme fare quella serie di azioni nei confronti delle istituzioni per poter raccogliere quell'adesione a dei modelli positivi e effettivamente di sviluppo delle efficienze energetiche e delle soluzioni che sono trascinate da questo tipo di attività.